A margine di un evento così importante per lo sport, soprattutto giovanile, partiamo appunto da un bilancio sul settore giovanile del Verona a tre mesi ormai dalla fine dell'attività. Un bilancio secondo me dove possiamo fare tutti di più, dove comunque in questo periodo io essendo nuovo sto cercando e ho cercato di conoscere tutto il materiale che comunque l'Ellas mi ha messo a disposizione. Per questo noi dobbiamo cercare di continuare e di creare quello che è il nostro obiettivo, quello di cercare di portare i ragazzi in prima squadra. Questo sarà il nostro e sarà il mio obiettivo di poter lavorare, di poter mettere a disposizione ai nostri ragazzi il massimo impegno, la massima professionalità per potergli dare questa possibilità di raggiungere quello che è il nostro obiettivo e il loro sogno. Ed è un Verona, un settore giovanile giallo e blu che ha dimostrato comunque di essere su questa strada? Assolutamente sì, nel senso che noi oggi cerchiamo di lavorare e stiamo cercando di lavorare su quello che è oggi l'educazione. La mia idea di far calcio oggi, soprattutto nel settore giovanile, è quello di far capire oggi che cos'è questa società, che cos'è il calcio, che cos'è diventare professionista e questo è il mio compito. Poi abbiamo degli allenatori che sotto il punto di vista tecnico-tattico cercheranno sempre ogni giorno di migliorarli e di farli crescere, però il mio compito è quello di cercare di far capire, grazie alla mia esperienza, di fargli capire quello che è il mondo professionistico, quello che è farsi trovare pronti al momento giusto. Poi c'è la squadra principale del settore giovanile, la Primavera, che sta lottando per la Salvezzi in un campionato molto molto difficile, squadre molto competitive ed è una Primavera che ha dimostrato di essere viva e di avere tutte le carte in regola per raggiungere l'obiettivo Salvezzi in Primavera 1. Sì, sì, bello. La Primavera è viva, anche veniamo da una sconfitta, secondo me, meritata di sabato a Udine, dove comunque la squadra ha cercato di portare a casa non il pareggio ma addirittura i tre punti. C'è il rammarico, però guardiamo avanti la cosa positiva in questo momento che la squadra dovunque va cerca di far sempre la partita, cerca sempre di ottenere il massimo del risultato e devo dire che questo è merito di tutto lo staff e dei ragazzi. Io sono convinto che ce la giocheremo fino alla fine perché comunque sapevamo e sappiamo che è un campionato difficile dove ci sono comunque realtà importanti, ci sono realtà dove veramente ci sono stati degli investimenti molto importanti. Però noi siamo qui, lottiamo, cercheremo di guadagnarci questa salvezza che secondo me per quello che noi abbiamo portato in campo e quello che sono state le nostre prestazioni di squadra e di singoli, secondo me meritiamo. Però queste sono le mie parole, adesso toccherà a noi in campo cercare di guadagnarci questa salvezza.